E ciao ragazzi, e se non fa il bet proprio di questo nuovissimo video di Brawl Stars Oggi siamo qui per fare una cosa, ragionissima, come sempre Oggi andremo a prendere una cosa molto interessante, spero di trovare qualcosa di bello Ovvero, il pacchetto di relazioni della sogna numero 10 Però prima cosa andremo a fare senza di potere Wow, non l'avrei mai detto Oggi c'è fatto Brawl Questa mappettina Io mi metterei Comunque non posso spoilerarvi niente Ma niente Non so se vedete un altro Brawl Però Non vi dico niente Non vi dico niente Andiamo Oggi ragazzi mi sbrigo perché Cioè voglio trovare una reazione epica Epica Epico Così faccio il bet Ho trovato una reazione epica Wow Vabbè Lascia passare Che fai No Ho risbagliato Ho risbagliato gadget Ho risbagliato gadget Ma no raga Ma qua LOL Scusatemi Ma perché quel muretto si è rotto Perché quel muro si è rotto No no Aspetta un attimo Che qua Cioè Si fa Intelligante Cioè perché quel muro si è rotto Totalmente a caso Quasi Cioè Intanto fa No No peccato Cioè Cosa Questo blu mi sta Mi gasa un botto Però Sta qua si pensa che Vabbè Va bene E comunque forse abbiamo incontrato uno Che ha vinto la championship Cioè La nuova championship Vabbè avete capito Alla screen di rosa Raga ma Ma sto qua Altro che Brew Stars Sto qua che ha fatto Sta 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 cosa qua Non lo so Chi è Ronaldo Ha fatto un passaggio Raga Che Che altro che giocatori Della Serie A Cioè Ha fatto un passaggio Allora Non lo so Se è stato Un nostro amico Nostro compagnetto La nostra compagnia Grazie che non mi hai Fatto Non mi hai elettronizzato No 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 1 a 0 Per la squadra Nemica Vabbè Lasciamo perdere Mamma mia raga Ma oggi Ci regala emozioni Brew Stars Vabbè Più o meno Abbiamo perso Quindi Ci regala Per davvero emozioni Peccato Ora Mettiamo il gadget Buono Cioè Quello giusto Vabbè Allora Mettiamo il gadget Giusto Comunque Non so se mi ha detto Ma sono già La soglia 14 Cioè Quando sono giusto Questo video è passato 6 giorni Sono la soglia 14 E 18 Vabbè Ok Perfetto Ragazzi Perfetto Ora raga Abbiamo il gadget Giusto Poi ho No doppio tank Però Cioè Quasi Poco ci manca E vabbè Mi ha asciutto Mi ha asciutto La faccia Quello Mi ha asciutto Una famiglia E Vabbè Che E vabbè Allora Una sculettata Ok Blight Ha segnato Blight Perché non c'era scritto Blight Leon Perché Sono quasi chiamato Blight Leon Lol L'ho fatto John Bar Scappa 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 Coppane Alba Non so Quale si C'entra Ma vabbè Ma vabbè Ma vabbè Scusate Ma che Che gol Ho fatto Ma che Che gol Ho fatto Altro che Ronaldo Andiamo con la Terza partita Altro che Ronaldo Raga Cioè Ronaldo Mi fa un Baffo Più Bene Più 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 O Meno Più O Meno Vabbè Vediamo Così E vabbè Già distrutto Quello Spiga Ok 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 Qua C'è la Scellata E vabbè Mangata Sce Ma Che Oh Ma Che Scortese Persona Cattiva Tu sei Una Brutta Cattiva Hashtag Brutta Cattiva Aiuto 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 No Volevi Lol Quel mortaio Cosa ha fatto Se uccide anche Cosa Mi dispera Ecco Dice Allora Mi devo Concentrare Mi devo Concentrare Aiuto Aiuto Non mi ha Scierto Mi ha Svegliato Cioè Stavo Tornando Mi ha Proprio Svegliato Come Cioè Mi immagino Scellita Mi immagino Scelli Quando Scortese Quando Dorme Suo Marito Che in Teoria Dovrebbe Essere In Teoria Dovrebbe Essere Non lo so Cioè Non lo so Una reazione D'amore Cioè Uomini Doni Uomini E Doni Vabbè Allora E Vole Una minissima Laggata Una minima Laggata Se ti carichi La Dicevo Se ti carichi La ulti Mi fai male Sei caricata La ulti E mi ha fatto male Ho confermato Che mi ha fatto male Sì Molto E non poco Vabbè Che 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 Ma dove Sto jump Ma dove Sono andata Ma dove Sono andata Sto jumping Ma dove Sono andata Vabbè Ah comunque Quando sto Giustando Sto video C'è Nel Pivo Brown In offerta Troppo Io non posso Shoparlo Guarda Perché Non ho Gemme Sì Oggi Devo Prendere Anche Un po' Di gemmino Cioè Del Pass Che Shop In diretta Allora Questa Qua è persa 1 a 0 Per loro Penso Se non va Miracoli Ecco Se Nala Nala Se non va Giove Miracoli L'ha fatti Non li ha fatti Eh Vole Eh No io ho fatto Fare il secondo Vabbè Raga Mo Apriamo Il pacchettino Il pacchetto Il pacchettino Andiamo Andiamo Alla soglia Numero 10 3 2 1 Via Uh 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 Quanto è figa Quella di Frank Raga No Aspettate No Aspettate un attimo Allora Prima cosa Quella di Maxine Super No Questa Super Mega Carina Poi Quella di Franco Che stai Franco C'è Ok E quella di Rosa 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 Ecco qua Il fatto che quella di rosa Eh Appunto Ma io Ma io non l'avevo selezionata Raga Allora Beh ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto E ci vediamo in un prossimo episodio Ciao Ciao